e passiamo al Mug, al sintetizzatore il quale è più o meno l'opposto di questo è uno strumento solamente da sollisti in quanto tra le altre cose non si può fare più di una nota però ottiene suoni di vario tipo mentre questo ottiene suoni di strumenti musicali questo ottiene suoni di tutti in pratica essendo tre oscillatori che si possono sfasare come meglio si crede si potrebbero ottenere tutti i suoni possibili solo che è un po' difficile bisogna studiarselo facciamo sentire dei suoni così ma dei suoni anche stranissimi questi sono i suoni soliti della radio quando si cerca la stazione oppure con i di uno strano strumento eccetera vediamo ancora qualche altro esempio questo è un suono bombardiere credo durante l'ultima vera quindi è preferibile adesso far sentire come si applica questo strumento ecco e si tu regolalo per per usarlo per questo pezzo benissimo allora la premiata foneria Marconi in dove e quando dopo